la macchina che usiamo oggi è appunto una segheria mobile e adesso è già pronta in cassetto per tagliare e praticamente viene possiamo andare sul luogo dove vengono tagliati gli albri sempre che ci sia lo spazio per arrivarci chiaramente e riusciamo a tagliare i tronchi in tavole appunto già in bosco la macchina che ci sia la macchina che ci sia la macchina che ci sia la macchina la macchina che ci sia 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 la macchina che ci Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Facendo sì che alla fine il valore aggiunto possa rimanere a vantaggio delle nostre imprese. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il tipo di produzione che può essere utilizzata dall'utente, dal proprietario del fondo per utilizzi personali, non sono volumi molto grandi, ma si può arrivare a realizzare un proprio prodotto, un proprio mobile proveniente dal proprio fondo, dal proprio terreno che può dare anche delle soddisfazioni di per sé come oggetto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.